Se volete acquistare crediti FIFA a basso prezzo, passate su fifacoin.com E con il codice GRANANAS avrete il 15% di sconto SBO- Bella vecchi dramani siamo i granani Siamo tornati qui con un nuovo video oggi Siamo su FIFA e è incredibile perché oggi sarà tipo FIFA Farweb Starweb da clioca Non si riesce a dire, raga, FIFA Farwest Perché cosa faremo? FIFA Farwest È difficile Comunque andremo a cambiare le regole di gioco Perché noi siamo ACAB E noi? Fuck the regole Fuck the rules Sì, fuck the EA Fuck the attack Fuck the... Cosa facciamo? Facciamo una bella... Infortuni sì, ovviamente Puoi gioco no? Cartellini no? Falle di mano? Sì Sì Palla Tutto il contrario Personalizzazione giocudente Ovviamente prenderemo le squadre più forti che ci sono Tipo Real e Barcellona Quindi la... E a posto e Roma piove Quindi cosa sarà lo scopo? Lo scopo sarà praticamente far fermare il giovedere prima che tiri da centrocampo Sì, esatto Errore passaggi zero Penso che sarà tipo come se mettessimo una velocità per quattro Ci sta poi Velocizza La velocità del gioco Cambiamo... No, è visuale Allora Ragazzi Se questo video vi piace E arriviamo a tot like Che decidete voi Facciamo 5-10 mila La prossima partita La prossima settimana Faremo Con il cambio di visuale Ogni goal Il classico Tanto che stai sicuri Sì Ci parti Subito Gliela leva Guarda, guarda Quanto corono Guarda, guarda Guarda, guarda Sei fortunato Vaffanculo Porco Dio Che mina Ma che mina Rega, io non riesco a studiare il gioco Cioè, troppo veloce Che cazzo Vaffanculo Oh Oddio Vabbè, ma Ronaldo Vaffanculo Per Modric Guardalo Mamma mia Che cazzo Tutta è nata Adesso Quanto Talmente era forte il tiro Ha rischiato Perché era da fuori Soltanto Oh Che c'è il gol Ma Vaffanculo Ma C'è pure rotto No, vabbè Troppo bello Cioè Mi ha fatto neanche Boh Ehi, ehi Oddio Oh E fallo Ha segnato Ha segnato Porco due Che cazzo Si era fermata la telecamera Boh Però sei rotto No Non se sa che traiettoria ha preso con la palla Ma dai Cioè Ma perché non escono Cioè Non lo so Vaffanculo Sì Ronaldo Ronaldo Il tiro Oh 3 a 2 Non c'hanno senso Oddio 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 Fintone Va a vuoto l'avversario Il tiro di Rodríguez Ma c'è andata Cioè Un aereo che decolla Sempre andata Fantastico Attenzione Benzema È suo È suo Cross Tony Cross Il tiro di Rodríguez Il tiro di Rodríguez Oh è fallo Il tiro di Rodríguez Ma dai È fallo Ma questo è saputo Guardalo 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 Parata La parata Casiglia Ce voglio credere Oddio Ma vaffanculo Remati Il tiro Oddio Oddio Che cosa va fa Faccialo Eeeh Dai e fa Ma vaffanculo Vai Suarez Mamma mia Buche al portiere Gli è passato attraverso Oh Oddio Il tiro Finalmente La rete La rete L'ha già fatto un gol Con un riflessio Ti ricordi Ah sì giusto E c'è il 6 a 4 Ops 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 Benzema Dice Si sono io Altro che Zladan Modric 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 è suo Lo tenta Ma che rete fantastica Ma che rete fantastica Ma che rete fantastica Ma perchè i miei pari Ciò non ti importa Cioè Che cosa che la parola Comunque Modric c'è da paura Per segnare Eh non lo so c'è un tiro Guarda che roba Cosentino Raffaele è lui Si Tu madre perchè te l'allunghi così tanto Si Il pallone di merda Lo vedi che gli pari a lui Vabbè dai Tirato col pepe Ma vaffanculo E' parte il pepe su Vabbè Un evivalente Bale Ma sai Dai Vabbè mi pari a coliccio Ma dai Non fa fanculo Oddio che gol Boom Da venerlo Dai se sono uno stronzo È fantastico Un bellissimo gol È incredibile È magnifico Si Lui ci segnava dalla Capito perchè Lo manda Eccolo E' lui Il tiro di Ronaldo No Vaffanculo E' Vaffanculo Oddio Merlo Dai che culo È No parli Oddio Che culo crede ma adesso puoi ripartire con modi c'è ma non sei mai visto l'intervento del portiere modi c'è il tiro di modi c'è porco due sfondala sta porta piqué 87esimo 8 a 6 non è calcetto ragazzi no becca testamina non è gol non ci vuoi più credere a ri becca testamina che porca magosca non è gol papio non è gol ci hai creduto eh ma non è gol non è gol oh piqué grandissimo in agrobazia oddio hai perso hai perso sta zitto finché pensi siii hai perso hai perso sta zitto sta zitto sta zitto siii hai pareggiato hai pareggiato pia sto pallone mamma mia dai dai hai capito 31 vai vai no 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 si sii sii si non non no no milla rete finisce qui finisce qui mamma mia che fatica eah beh ci becchiamo al prossimo video se vi è piaciuto e diteci se vi piace quell'idea del cambio di visuale e la prossima settimana ci sarà. Bella! Bella!